C'era una volta a nuvietti e una vecchia, sotto al lupo dallo, aspetta, camote no come lo come? La tradizione è l'ossigeno delle scintille, è la salvaguardia del fuoco, non è l'adorazione delle ceneri. Non è culto delle ceneri di un passato estinto, ma è un'alimentazione costante delle braci ardenti e delle fiamme, di generazione in generazione, da generazione a generazione. Non perdo tempo, corri qua, vieni a guardare, in un diluppo di seconda. Grazie. 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 Grazie.